Su questa giornata di primo maggio, dedicata agli immigrati e particolarmente alle Afriche liberi. Credo che sia molto importante dedicare questa giornata agli immigrati, che sono i lavoratori che oggi forse danno più sacrificio allo sviluppo anche del nostro Paese. Perciò in questo giorno dobbiamo pensare insieme al nostro Paese, al lavoro del nostro Paese e a tutti i vostri Paesi, soprattutto dell'Africa, perché sono i nostri vicini, sono quelli che abbiamo davanti, sono i Paesi verso cui abbiamo più responsabilità. Posso fare un'altra, credo? Ma dell'integrazione, che cosa ne pensa lei? Io credo che sia l'obiettivo anche più bello che abbiamo di fronte a noi, ma qui parlo anche per il mestiere che faccio, ho sempre insegnato politiche sociali e in fondo il mestiere delle politiche sociali, come il mestiere della scuola, è stato anche per la crescita del nostro Paese, all'interno del nostro Paese, l'integrazione sociale. E credo che politiche sociali e scuola e soprattutto scuola, 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 debbano essere di nuovo un grande strumento di integrazione sociale. I nostri bambini devono venire su insieme. Grazie mille.